partiamo col derby, facciamo entrare i nostri interisti prima di tutti il più grande cantautore interista di sempre come stai Marione? clima derby Andrea, clima derby, speriamo bene ma ti stai cacando un po', perché tu sei uno che non ci ha mai avuto paura questo va detto, è del vero anche quando giocavi con Akank Shukur e così e non avevi paura? mai avuto paura però con Akank e bre, quelli scappati di casa vabbè dai, se non perdavamo i derby con Schelotto e Hobie, figurati ora dai allora però non c'è solo Mario in rappresentanza dell'Inter abbiamo anche il buon Ale Cavasini e buonasera anche al nostro avvocato Paolo Rendina buonasera avvocato, come sta? molto bene grazie, molto bene ciao a tutti un avvocato anzi diciamo che si canta queste e tante altre ma insomma mi piace molto, peraltro non c'entra nulla però mi piace molto l'idea anche di poter fare i cori, i canti o meglio, gli inni delle squadre all'ingresso delle squadre togliendo quella maledettissima canzone, musica della serie oh genero no attenzione, applauso bravo avvocato bravissimo è insentibile, inguardabile capisco che ci voglia lì non c'è il cerimoniale e tutto però insomma lasciamo almeno questi momenti a noi anche perché è uno dei momenti più belli l'ingresso delle squadre giusto i colori le esultanze e tutto quindi insomma almeno quella e poi allevi ragazzi allevi intanto ragazzi che se no mi scordo ricordatemelo allora scusami vai no no che è arrivato anche Pianeta Milan Matteo Ronchetti buongiorno a Matt e Jack Lima grazie Lore per il terzo per il terzo vabbè ma è bello del calcio ti posso dire una cosa ti posso dire una cosa rispetto ad altre volte vedo sia te se i tempi sono d'accordo insomma quasi tutti gli interisti vi vedo davvero molto molto tranquilli per questo termine cioè li vedo tutti con la faccia bella distesa ma con che hai parlato Manfred scusa eh no no è una cosa diffusa che ho visto non so se ma è diffusa male io invece io vi vedo non fermo è vero è vero no no io penso che sia la lontano probabilmente anche alla classifica credo Manfred io invece vedo voi milanisti che all'inizio ogni anno siete sempre belli e spensierati poi arriva il ritorno Mario occhio dicono clippate Allora per chi stava chiedendo il RAS Raga l'abbiamo invitato ovviamente Per fare un 2 contro 2 Insomma per avere due esponenti Ma Sasha sta cambiando Vabbè adesso non so da che La linea internet non ce l'ha ancora buona Spera di averla persa Mi avete detto che ci stavo io e non è venuto Diciamo la verità Eh non lo so Ma anche Mario Inter Ma Mario Inter, Sasha è un duello che mi stuzzica Ma Mario la mette più sullo scherzo Invece da me viene proprio le mazzate Va bene va bene va bene Allora veniamo un attimo Facciamoci un attimo serie C'è qualche dubbio Ancora di formazione ragazzi Vado da un lato e dall'altro Inizio da chi gioca per rispetto Fuori casa facciamo così qui Il Milan e condivido Eh ragazzi Luca non può venire viene domani Non riuscivano L'abbiamo invitato anche Luca Ragazzi noi ci muoviamo sempre Ragazzi non è che dormiamo Facciamo questo lavoro qua Ragazzi ce lo dovete dire Anzi bannate questo qua che ha scritto Vogliamo Luca in live Che non ha rispetto un cazzo per noi E condivido quello che scrive Pianeta Milan proprio Eh Che poi sono le parole di Baiocchini Ibra verso il forfè Buone notizie su Tomori Allora Matt Facciamo un po' Partiamo dalle formazioni Sì allora Ti dico la verità Ci sono diversi dubbi Però Da Da quello che ho percepito In questi giorni Ti dico la verità Non ho grandissimi riscontri positivi Per Ibraimovic Tomori E Rebic Ti dico Ti dico Questo Sostanzialmente il Milan Credo che scenderà in campo Con Mignan Calabria Calulo E Romagnoli centrali Teo Hernandez Sulla corsia mancina Tonali e Benasser Mario porta rispetto Che sì Avanzato dietro le punte Dietro la punta Che sarà molto probabilmente Giroud E non Ibraimovic Che ha provato Ancora del fastidio È vero che manca ancora un po' La partita Ma tendenzialmente È più no che sì Tomori Grazie mille Mi stia parlo Molto molto bene Il suo recupero Ma Penso che abbia Del miracoloso Ecco Vederlo in campo Subito E penso che Verranno fatte Vedere un panchina Aspetta un attimo Matt Se c'hai delle cuffie Perché c'è un rientro pazzesco Secondo me sei te Perché quando parli te Le cerco Arrivo Grazie Vai 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 Intanto andiamo un attimo Sull'Inter Andiamo un attimo Sull'Inter Buongiorno anche ad Augu Intanto Ciao Facciamo parlare un interista serio E quindi non Mario Inter Eccoci qua Mi dissocio Grazie intanto a Milanisti Dabar per il quinto mese A Frank per il secondo Ne mancano 21 al gol Eccoci qua con Inter News Cavacini Mi sembra che Gli unici dubbi Siano sui sudamericani Giusto? Sì Di fatto sì Per quanto riguarda l'attacco Invece a centrocampo Giocheranno Angelo Orlando a destra Berti a sinistra Jonke Seno In mezzo No perché vi ricordo Che quando Quando il Milan Questo è bullismo Signor Cavacini Queste squadre qua Quindi occhio ai derby Io non me le ricordo neanche Occhio ai derby Ecco appunto Occhio ai derby Che comunque sia Quando parti sfavorito Di solito Ricordo derby Vinti con Funtolan Con Branca Un gol dopo cinque minuti Minauto Quindi hai paura Di questo Milan sfavorito Mi sembra di aver capito Ma il derby è una partita Che per antonomasia È sulla qualsiasi logica Di classifica Di stato di salute Quindi È sempre una partita Che va presa Non dico con le molle Perché sennò poi Mi dicono che sono boomer Però va presa con le molle Eh che boomer Allora Aspetta un attimo Mario Mario Ti faccio rispondere direttamente a te A questo qua Dov'è? Che aveva scritto sta cagata Pancio non siete Una televisione seria Se invitate Mario Inter Allora uno Noi non siamo una televisione Non vogliamo esserla Due Noi siamo il futuro Se tu sei abituato alle robe serie E non sai fare su e giù Vai a vederti contro campo Amico mio Non stare qui Porta rispetto a Mario Inter E vergognati Vergo chiedi scusa Vabbè Dovevi rispondere a te Mario Ma l'ho fatto io Vabbè Andrea Ma l'ho bisogno Anche perché io ho molti nemici Proprio perché io Non sono Un lecchino di altre squadre Quindi alla fine Se c'è qualcuno Che parla di me Ti può stare Non me la prende Sul personale Anzi lo saluto E tanti auguri Ciao Ma che umiltà Ma che umiltà Ma quanto è umile Mario Inter Mentre sta facendo la 110 per 8 case Viene qua Abbiate rispetto Porta rispetto Scusate Si vede Si vede che sta lavorando Ed è in salute Guarda come sorride Matt ci sei adesso Tanto mi sentite meglio? Da Dio Perfetto Perfetto Ottimo Allora ti dicevo Tomori Ritornando sul Milan E' un'utopia E' un'utopia anche che sia in panchina O è una speranza più concreta? E' una speranza Lui sta procedendo Lui sta procedendo molto bene E molto in fretta Il recupero Però io credo che molte valutazioni dovranno essere fatte anche in prospettiva futura Cioè rischiare in questo momento Tomori significa rischiare uno dei pochi difensori Molto forti e molto affidabili su cui Pioli fa veramente tanto affidamento anche per le prossime partite Non ne mancano tantissime ne mancano 15 però sicuramente questo è uno snodo fondamentale importante per la stagione del Milan sotto tanti punti di vista Però rientra anche da un'operazione per cui è chiaro che bisogna prendere tutto con le molle come si diceva prima Anche perché Matteo come l'operazione al menisco io leggevo ieri Ottimismo per Tomori anche adesso leggo Ottimismo per Tomori Perché è tornato in campo e ha fatto una parte di allenamento in realtà ha fatto riscaldamento che è la corsa dritto per dritto Adesso andiamo su Brahim ragazzi Come tutte le articolazioni il problema è nei cambi di direzione Quindi se tu già stai fuori diciamo da 20 giorni non hai quindi 90 minuti alle gambe ma forse nemmeno 45 E devi tornare a allenare l'articolazione sui cambi di direzione, scatti, frenate e ripartenze Quindi metterlo in campo addirittura da titolare io penso sia proprio impossibile Poi ormai tanto ognuno parla di tutto e va bene però io ci sono anche passato menisco e crociato quindi parlo anche a ragion veduta Aggiungo anche che è un giocatore che sollecita molto no? I muscoli e le articolazioni è uno molto veloce e molto esplosivo per cui anche per questo il Milan Valuterà molto attentamente la situazione per quello che dicevo inizialmente sia per Ibrahimovic che per Tomori Sì ci sono buone notizie perché si avvicina a un reintegro pieno però ci sono anche molti molti dubbi e per quanto mi riguarda è un più no che sì Qualche speranza in più ce l'ha sicuramente Rebice che però da tre giorni a questa parte si sta allenando a parte Mi dicono per un ricondizionamento fisico come si dice in gergo cioè per riportarlo in forma perché nelle ultime uscite non è sembrato proprio in palla O comunque il giocatore che avevamo visto tanto tempo fa che era in grado di spaccare la partita Io avevo qualche problema alla caviglia Avevo letto per qualche problema alla caviglia Ha avuto una serie di problemi che l'hanno sempre condizionato nell'ultimo periodo Quindi valutiamo e aspettiamo poi le indicazioni che dirà Pioli in conferenza stampa e aspettiamo fino all'ultimo Però teoricamente appunto come ho detto dovrebbe giocare che sì da finto trequartista diciamo Con Salemeker e Leao Come a Dempoli Come a Dempoli no Matt? Sì 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 Matt una domanda Aveva fatto anche molto bene Ha segnato che sì Matt c'avevo una domanda ma intanto ti chiedo se puoi cercare un attimo le quote Prima di andare su Bremer e Inter che vorrei sapere il paere di Paolo Ma voi per quanto riguarda che sì Questo eterno diciamo limbo nel quale vi sta mandando del rinnova non rinnova Cioè non ne potete più Cioè com'è la finestra a Milan? Come la vivete? Come per tutti gli altri rinnovi Diventano delle telenovela infinite Probabilmente con una fine già scritta Come per Donnarumma e Cialanoglu Credo che anche sia Romagnoli Anche se c'è qualche minima leggera speranza in più Che per che sì Penso che il destino sia segnato Anzi addirittura potrebbe annunciarlo a marzo Mi dicono che potrebbero esserci delle novità Io penso che che sì abbia già deciso di andare via dal Milan E il Milan di fatto sarà l'ennesimo giocatore che il Milan perderà a zero Lo ha in qualche modo già sostituito in parte con Adli Bisognerà capire che tipo di ruolo in campo prenderà Adli Perché in questo momento sta giocando come trequartista Atipico come mezzala di movimento nel 4-2-3-1 del Bordeaux Probabilmente il Milan andrà invece su un giocatore diverso Come Renato Sanchez Molto più qualitativo, meno quantitativo Per aumentare il tasso tecnico della squadra Questo è quello che mi risulta Poi per la difesa è un'altra cosa Bremer piace ma Botman è nettamente in goal position Paolo ma lo vogliono tutti sto Bremer I numeri sono molto buoni Cioè Calcola è il miglior marcatore in assoluto per noi come difensore Insomma si sta comportando bene 12 gol mi pare tra campionato e coppe È un bravo ragazzo Lo ha dimostrato anche nei rapporti con la società Perché comunque adesso ha rinnovato fino al 2014 Sì, il 2014 magari Il 2024 Piace Speriamo che non abbia Non abbia problemi anche lui Ma insomma Si è inserito bene Sta bene con i compagni Bene così Adesso peraltro Arriva la sfida derby E si ritroverà Una brutta bestia lì davanti Sperando di bissare La prestazione contro la Fiorentina Quindi annullare Il ragazzo dall'altra parte Ce l'auguriamo tutti Però insomma Intanto posso dire che ha avuto un bellissimo Dopo andiamo su Napoli Di riconoscenza anche nei confronti del Torino Perché comunque rinnovare per poi andarsene Significa dare la garanzia al Torino Di incassare molto più di quello che magari Però si parla Però proprio in questo senso Si parla di una promessa Eventualmente Sicuramente ci saranno Il nuovo Per scegliere lui Per scegliere lui la destinazione Certo Certo Potemi fare due considerazioni oggi Più che mai Sicuramente riconoscente Questo ovviamente ringraziamo sempre chiunque Insomma Sia riconoscente nei confronti della società Ci sono però altre due considerazioni L'arrivo comunque di un paio di inserimenti Molto giovani nel Toro Che fanno ben sperare per il futuro Inaspettati Perché comunque Cairo Non aveva mai speso tanto Al mercato di reparazione di gennaio Per dei giovani Così E si sta muovendo un po' la voce Ma è ovviamente una voce Quindi lasciatela così com'è Però insomma potrebbe anche essere Di magari qualche movimento societario È molto capitalizzata come società Boh che ci sia un'idea di vendita Di cessione della società da parte di Cairo Domanda E questo potrebbe essere Uno scenario molto interessante Sul 2023 Sicuramente è una squadra Che sta andando in prospettiva Per rimanere in quella fascia Che poi È quella che ci siamo sempre aspettati Nono Decimo Ottavo Magari lì ai margini Insomma dell'Europa Però anche Bremer che rimane Insomma Secondo me è una considerazione importante Adesso vediamo Belotti Cosa vuol fare Mamma mia Dovevi darlo via Dovevi darlo via due anni fa Di più Quattro o cinque anni fa Ma o no Perché c'è sempre quella paura lì Da parte delle squadre Che all'inizio Cioè Vlaovic Faccio un esempio Secondo me la Fiorentina Ha fatto bene Chiedo anche a te Ma che ne pensi A darlo via mo Perché poi dopo rischi domani Non dico che diventi un belotti Però che si perda un pochino Cioè è vero che può diventare un fenomeno Però può diventare Piontech Può diventare Cioè sicuramente Nell'apice Sono d'accordo Però Ancio se mi permetti Sì Secondo me Il ragionamento è vero Secondo me La più grande operazione di mercato L'ha fatta la Viola Punto Nel senso che L'operazione di mercato Tanto Non voleva più star lì Quindi che cosa ti tieni Alla fine Ci hai guadagnato Poi I movimenti che abbia fatto la Juve Questo non mi interessa Gli hanno fatti e va bene La Viola ha fatto comunque Due acquisti Che secondo me Possono rilevarsi molto buoni Anche a centrocampo L'ha rafforzato Io Il mercato di riparazione Del fantacalcio Ho preso Il nuovo attacco della Viola Per intenderci Mi sembra molto 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 buono Come terzo e quarto slot Ma questo non lo diciamo Domani Domani facciamo il fantacalcio Paolo Se vuoi Ti aspettiamo Ma volentieri Perché Sto facendo anche l'Eurolega Insomma anche i movimenti Esteri Mi stanno interessando Però ripeto Dobbiamo vedere le prospettive Delle squadre È ovvio che Pancio Cioè Un Belotti Quando si è trovato l'anno scorso Più o meno a decidere Si era già svalutato Del 40% Perché il Toro Non valeva nulla Cioè A livello di prospettiva Dico io Oggi Con Iuric Con una squadra rinnovata Con un Sicuramente un Brecalo Un Bremer Cioè Alcuni inserimenti importanti Beh insomma Oggi Fossi in Belotti Direi Ma sai che c'è Forse ci ripenso Sicuramente farei così E Troverebbe anche Un minimo di difficoltà Secondo me oggi A trovare Il posto fisso lì davanti E la sparo No 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 Secondo me è regione Secondo me è regione Io sono d'accordo con l'Euro Ragazzi intanto Scusate vi interrompo Ho un inviato A Milanello Che mi segnala Che dici Che dici Come sono le quote Il fatto che il Milan Cambia Ibrahim Diaz Con Chessy Ma guarda Alla fine Al di là degli sfottori Il Milan Ha una buona squadra Che può battere Chiunque Se è in giornata Ovvio che l'Inter È più forte Del Milan È inutile che ci giriamo Intorno Però insomma O Chessy là davanti O Ibrahim Diaz È una partita Che Qualsiasi calciatore Nel derby Può succedere Veramente di tutto Sinceramente A me preoccupa Più che sì Che Ibrahim Diaz Sono proprio sincero Sì sì Che comunque si chiama Brahim Diaz Se no sarebbe Ma infatti Non li conosco I giocatori No allora Dicono In chat In chat Stanno dicendo Che bella questa cosa Che gli interisti Se la sentono Di aver già vinta Io ho visto Qualche storia In giro Dei Sasha Anche E mi sembra Che più che gli interisti Che sono Diciamo Scusate il francesismo A cazzo duro Mi sembrano un po' Matt I milanisti E io ho visto Sasha Quelli che stanno Buttando avanti le mani Dicendo Bravo Ma li capisco anche Queste quote Non sono altro Che la testimonianza Perché comunque È abbastanza oggettivo Sarebbe ipocrita Sia da parte dell'uno Che da parte dell'altro Pensare in maniera diversa Forse Guarda Ti dico Secondo me È un po' Tutte e due le cose Cioè Grande Confidenza Come si dice Da parte Dell'Inter Perché comunque Obiettivamente Hanno una squadra Molto forte Avanti Potenzialmente Di sette punti E anche Dovessero perdere Non succederebbe Nulla Però vedi Scusa 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 Però vedi Hanno messo Anche lui Ha messo le mani avanti Già sette punti La partita con il Bologna Ci hanno già dato vinta Capito Potenzialmente 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 Impara l'italiano Oh ma Tu Calma Calma È un milanista Mario Ti stuzzica È di parte Prego Prego Matteo No dicevo Potenzialmente È a più sette Quindi Chiaramente Il Milan Giocherebbe Solo per vincere È un pareggio È chiaro Che cambierebbe Veramente poco Le cose Però in questi Soprattutto Ultimi Diciamo 14 giorni Diciamo che Complice Il mercato Un po' immobile Del Milan E eufemismo Diciamo che I tifosi Hanno virato Verso un po' Il pessimismo Martellati Devo dire Anche molto Da alcuni concetti Che la stampa Veicola molto Cioè il Milan È quasi Non è più in corsa Per lo scudetto Ma rischia seriamente Il posto In Champions League Sta diventando Un testa a testa Tra Milan E Juventus A leggere un po' Tutti i giornali E sentire I talk Anche se Ci dimentichiamo Che insomma La classifica Riguarda Anche Napoli E Atalanta Quindi voglio dire Bravo Io credo che Vada letto tutto Con un pochino Più di equilibrio Io penso che il Milan Abbia una buonissima squadra Giocando ogni sette giorni Si recupera tutti Sarà Molto competitiva Certamente Per restare Tra le prime quattro Chiaramente La Juventus Sè rinforzata Però deve inserire Questi giocatori E migliorare Certamente La qualità del gioco Per fare un salto In avanti E bisogna vedere Napoli Milan E Atalanta Che ritmo Potranno tenere L'Inter Io credo Ma lo dico Da inizio stagione Non lo dico adesso Perché ha Qualche punto In più O perché C'è il derby Davanti Ma penso Abbiamo già capito Abbiamo già capito Abbiamo già capito Abbiamo già capito Non vada lì Per favore Con questo maniavantismo Manfredo Una cosa Io stamattina Sabato sarà il derby Ho sentito Un giocatore del Milan E ti dico Matt Che secondo me Questa sensazione Ce le hanno Più i tifosi Mentre in realtà La squadra Ci crede ancora Certo Sì sì Ma guarda che La squadra Fa molto gruppo È molto compatta E fin dall'inizio Del campionato Ma anche l'anno scorso La società Fissa un obiettivo E quello che ha chiesto Maldini È quello di andare Sempre oltre Gli obiettivi Oltre quello Che è stato fissato Oltre proprio Probabilmente Anche i propri limiti Quello che ha fatto L'anno scorso Il Milan È stato eccellente Quest'anno È provato A superarsi Ancora Una volta Quindi Dentro Dentro il gruppo Dentro lo spogliatoio C'è tantissima voglia Di dimostrare Di valere Probabilmente più Di quello che si dice fuori Ok Volevo chiedere All'interisti Perché ho visto qualcuno Scrivere La decide Caicedo Ma Caicedo È già ruolabile? Sì 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 Non ha nessun tipo Di problema I problemi Che ha avuto Al Genoa Sono già Passati Ma anche Nelle ultime partite Comunque L'ha giocato Nel Genoa Quindi Caicedo Sta Forse è quello che sta meglio Tra gli attaccanti Visto che è rimasto a piano E si è allenato A rispetto Dei sudamericani Perché Lautaro È tornato Si allena Diciamo Oggi E Sanchez Addirittura Solo domani Quindi è Come al solito Queste nazionali Solo che ti parte Dall'inizio Lautaro Giaco Secondo me Non ho grandi dubbi Sinceramente Anche perché Sanchez S'è fatto 180 minuti Dei quali Gli ultimi 90 Alla pazza A 3600 Merito altezza Con il campo Addirittura Con l'inizio della partita Ritardato di mezz'ora Perché il campo Era completamente Allagato Tant'è che Dal sessantesimo in poi È vero che ha segnato Un altro gol Ma stava sulle gambe Era a continuo rischio Sciscione Ti ho visto con la lacrimuccia Ferma un attimo Ringrazio Ringrazio Dieci abbonamenti Di Ricard C.O.C Ringrazio Spam di Mecenate Addirittura Si commuove Manfred Manfred Non credevate Che c'hai Manfred Sei mezzo bloccato Voi non credete No Manfred Sei bloccato È andato via Manfred Andre Questo è Gesù Sempre Andre Sempre il grande Dio Beh però In questo caso No Questo è un po' più Il tacchino al contrario Grazie Ancora Ricard Che ne ha regalati Altri dieci Ragazzi Spam di Mecenate Super Ricard Che torna In testa Attenzione A pari merito Con giù Sarà una lotta 20 abbonamenti regalati Veramente ragazzi Un Come dovrebbe Io spero che sia il campionato Io vi dico la verità A onor del vero Non voglio fare Non me ne vogliate Però noi per il programma Cari amico Ale Caro amico Mario Anche Lo dico anche contro mio papà Se L'Inter vince Diciamo che il campionato Non dico che è finito Però comunque Con una partita in meno L'Inter vince Sarebbe un po' più avvincente Paradossalmente Ci siamo visti Ciao No È così A livello di Cavasini Non faccia così Per favore Venga qua No 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 Andrè Ma hai ragione Io non ho paura Di parlare di questo Forse Io sono diverso Agli altri Su questa cosa qui Io dico che tu Hai perfettamente ragione Io voglio vincere Questo derby Anche per dare Finalmente Una spallata Al Milan E dire Guarda Ancora Non è cosa tua Stare alla pari Nostra Per dedicarci Un pochino di più Anche a questa sfida Contro il Liverpool Però ragazzi Dobbiamo anche Parlare un po' Di questo Napoli Perché il Napoli Non è poi così Tanto scarso Ricordiamo che il Napoli Sta immaginando anche Tanti gol Vince tante partite Gli è mancato Per tantissimo tempo Ocimen Ha giocato Con Betagna E il Napoli Al completo Secondo me È anche Superiore al Milan Sono Beh Perché non Manfred Ne ha regalati Altri sei Riccard 26 ne ha regalati Per favore Metti il primo posto Riccard Poi Gius Poi Toni Non ti emozionare Manfred Perché siamo in ritardo Spano di mecenate Ma dobbiamo andare Manfred Dobbiamo andare Io sono d'accordo Con Mario Comunque ragazzi Tornando un attimo Al focus Del programma Io sono d'accordo Che il Napoli Io mi ricordo All'inizio anno Erano tutti a esaltarlo Ma ce lo stiamo Dimenticando tutti Il Napoli come rosa Secondo me Assieme alla Juventus E all'Inter È la migliore Quindi non Era la mia favorita D'agosto Il Napoli Insieme alla Juventus Quindi non ci vedrei Nulla di Particolarmente Strano Posso farvi notare Che nel giudicare La rosa del Napoli Voi avete negli occhi L'Ossiman Delle prime dieci partite Che Non è che Ossiman Voglio dire Sia stato nella sua vita Sempre il bomba Cioè è giovane Per carità Però secondo me Si è tenuto a considerare Ossiman Come un crack Forse Forse non è quello Perché Senza Ossiman Mertens ha già fatto Più godio Ossiman Quindi C'hanno tre punte Per un posto Nella completezza della rosa Io credo che tu ci metta Questo Ossiman Che potenzialmente Come molti Lo vedi Come un attaccante Ma ragazzi C'è un rientro strano Aspetta un secondo Che provo a fare Un tentativo Parlando io Per capire Se arriva da Non è Ale Ma sei tu Allora Manfred Magari Fai questo rientro Un due tre Prova No Ma chi cazzo è Mario forse Un due tre Prova Un due tre Prova Mario 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 Ma mutati te Mario Poi ti smuti te Quando devi parlare Perché se no Ci fa un po' rientro Vabbè Vabbè Che tu sia maledetto Allora Dopo ci andiamo sul Napoli Ragazzi abbiamo scritto Anche a rompipallone Antonio Manzo Volevo chiedere Una roba al volo Sull'interale Mario Se si sa qualcosa Di Brozovic Che oggi Poi è vero Che quando non c'erano Le partite Come dice Mario Tante volte Si fanno titoloni A destra A manca Di qua Di là Oggi si parlava Addirittura di Barcellona È venuto fuori Stavo leggendo Chiedo No Chiariamo sta cosa In effetti Perché ho visto Pure io Me l'hanno comunicato In realtà Ieri sera Mentre vedevo Sanremo Grazie Ale Ma non ti vergogniamo Ma in realtà Il Barcellona Si è interessato A Brozovic Ma in estate Si interessò E E Non possiamo Nasconderci Anzi Sarebbe strano Il contrario Che uno come Brozovic In scadenza Non ha offerte È chiaro Che ce l'ha Poi però Sta lui Ma non è una novità Diciamo di ieri È una cosa Del tutto normale L'unica cosa Che mi viene da pensare È che insomma Il Barcellona Buschezza Chiaramente Non è Però gioca In quel ruolo Hanno già le rete In casa Di Buschezza Che è De Jong Che adesso Gioca un po' Il defilato Ma in realtà È un regista Preciso Proprio per il 433 Barcelloniano Quindi non credo Che si andranno A svinare Per Brozovic Poi è anche vero Quello che dite voi Non è che ci sia Tutta questa logica Negli ultimi Nell'ultime sessioni Di mercato Del Barcellona Quindi Ci sta pure Che faccio Una pazza del genere Però se io Ho De Jong Ferran Torres Pedri Gavi Non vado a prendere Brozovic Vado a prendere Altri giocatori Se devo dare 8-9 milioni Grazie intanto A sborro sul balcone Per il settimo mese Scusate E ora è così Lo ringraziamo Avvocato Non rio Anche l'avvocato È nostrissimo Grande avvocato Avvocato Se lo vuole salutare Non lo so Eh no Quelle cose lì Sul balcone Anche no Però Apprezziamo Comunque Che ci sono Giovani virulenti Che insomma Ancora tengono alta La bandiera dell'Italia Grande Avvocato Devo dare una buona notizia Prima volta Che parliamo seriamente Di Torino Ho ingaggiato Una giornalista Molto brava Del Torino Quindi La vorrei in coppia Con lei Ecco Molto volentieri Ah la cazza Io sono il barbiere Del Torino Bello easter egg Questo Vale pure lui Chi li appancio Ste cose Basta Basta Non cazzeggiamo Allora Manfredo Rimetti le quote Proviamo Anche se con un giorno D'anticipo A immaginarci Come potrebbe finire Chiedo anche alla chat Proprio a risultati Sto dicendo Risultato esatto Manfredo Mario Parta lei Risultato esatto Sì Così a gioco È proprio 4 a 1 Inter Primo marcatore Ma Lautaro Martinez No Buongiorno Ad Antonio Mazzo Intanto Buongiorno Anto Rompipalloni Punto it Buongiorno Adesso andiamo Tutto bene Anto Stiamo un attimo Siamo ancora in fase derby Adesso andiamo sul Napoli Che sei infortunato Lozzano Grazie mille Che sei passato Anzi Figurati Figurati Un piacere Ecco qua Intanto le quote Matt Tu come la vedi Se dovessi fare un pronostico Così per giocare No non farmi far pronostici Uno secco E tanti auguri Dai Guarda Mario Che ormai ride Cioè non se la prende neanche Una veramente No perché hanno tutti paura A fare questa cosa qui Invece Mario ha detto 4 a 1 Dico una cosa Quando si parla di snodo importante Della stagione Penso che lo sia per il Milan Ma anche per l'Inter Perché comunque Ti smuta Mario dopo Certamente Il mood Che poi ti trascini Dopo il derby È sicuramente molto importante L'abbiamo visto l'anno scorso Per il Milan Quanto ha influito Quest'anno può influire però Anche per l'Inter Perché comunque Se non mi sbaglio Ha un calendario Anche molto complicato Nelle prossime partite Ci sono Roma Napoli E Liverpool Poi arriva il Sassuolo Che è una squadra Che comunque gioca A calcio Insomma Deve essere complicato Immagino per tutte e due Le squadre Comunque approcciare A questa partita Perché poi si parla Tanto del Milan Ma equivale anche Dall'altra parte Chiaro 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 Andiamo avanti Ale Lei come la vede? Intanto faccio un pool in chat Vi metto 1x2 Però a voi ragazzi Guarda io ti dico 1 a 1 Primo marcatore Massaro Dai Agu come la vedete Ma se dovessi guardare il campo Sicuramente l'Inter Ai favore del pronostico Però Sono partite che Secondo me Esulano pure dal valore Delle due squadre Ok Non dispiacerebbe che vincesse il Milan Così il campionato si ravviva Però la vedo come un pareggio Ce l'ho io Ce l'ho io ragazzi Vai Manfre vai No si ravviva per la Lazio No si ravviva in generale Rientra in Lazio No no si ravviva in generale L'ho vista L'ho vista adesso nei miei occhi Mentre parlavate 0 a 1 0 a 1 Marcatore Tonali Va bene Mario Mario per favore Io vi dico la verità E poi non sono fiduciosi E poi non sono fiduciosi Anto ti vuoi fare anche te Un pronostico Sul derby Sì Poi dici Ma chi preferisci Anto in ottica Ma preferisco sicuramente La vittoria del Milan Che come dicevate prima Potrebbe riaprire il campionato Solo per lo spettacolo del campionato E non per il Napoli Io invece vi dico Che secondo me finirà Con uno 0 a 0 Proprio una partita Imbarazzante Eh ma quelle partite lì C'ho un po' paura Che possa finire così Ma attenzione Ma guarda che non gioca la Juventus Cavaggini non faccia battute Per favore Porti rispetto per gli avversari Per la chat Faccio il cronista Non faccio battute Per la chat Aspetta 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 Fallo vedere un attimo Che tanto ci siamo Perché devo fare in taciò Anche prima Ah ok allora Smetti l'Instagram di Mario Inter Grazie intanto a Matteo Grazie Matt Buon lavoro Sei mutato Matt Ah in possesso Ti sei auto mutato Ciao a tutti Grazie mille Ciao grazie a te Matt Grazie mille Grazie mille Manfred Ovviamente Quando serve Manfred Disparisce Capito Mario Come siamo messi Porca doia Mi dici di condividere Mario Inter E devo rimanere pure in questo studio Ah sei uscito per quello? Sì Ha ragione Eccolo qua No 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 Ci mancherebbe Autogol di Barella Fai vedere Pancia Ma vai cagare No